Un attimo, ripeto il meccanismo perché sia chiaro. Besostri illustra l'ordine del giorno che in sostanza è la nostra Assemblea, i nostri comitati che si rivolgono alla Corte che il 24 inizia a decidere sulle istanze degli Avvocati. Beh, è bene ribadire le proprie posizioni perché una persona autorevole mi ha detto ma non andiamo a disturbare le Corte, noi non è che l'abbiamo disturbata, gli abbiamo presentato le istanze, credo che abbiamo diritto di sostenerle o no. Al termine dell'intervento di Besostri che illustra meglio di me, per brevità, le ragioni, ripeto ci sono due ordine del giorno su cui vi chiederò il consenso. Uno riguarda la raccolta delle firme perché nell'esperienza che abbiamo fatto abbiamo scoperto che è un grande casino, o no? È democrazia avere una raccolta delle firme che costa di meno ed è più semplice. Poi aggiungo, i regolamenti parlamentari possono fare un mestiere che molti attribuivano alla modifica della Costituzione, un'assordità. Leggetevi l'ordine del giorno, quello sulla legge elettorale che è un'ipotesi senza la Corte, ovviamente perché senza la Corte non possiamo fare il testo della petizione, è quello che avete già avuto, quindi quello non è in distribuzione, è stato mandato urbi e torbi, diffuse in tutti i modi possibili, se non ci sono osservazioni anche quello lo diamo in cavalleria e continuiamo a discutere. Penso che mi consentirete di dire due parole soltanto prima di leggere il testo dell'ordine del giorno, il giorno 24 indosserò una toga, ma mi tengo questa cravatta rossa, ma non sono tenuto in tutto questo tempo. E il mio rosso va bene così, mica tutti siamo estrevisti, scusate, anche perché questo impegno lo si fa come avvocati, ma perché anche si ha una certa opinione politica. L'aspetto positivo è quello che si riesce ad arrivare in Corte Costituzionale dopo neanche sei mesi dalla piena applicazione che si sarebbe dovuto fare, cioè dal 1 luglio 2016 e neanche a due anni dall'entrata in vigore della legge. Siccome vengo dall'esperienza dell'annullamento del Porcellum, che è questo che ha insegnato una diversa strategia, dove si è arrivati cinque anni dopo e al terzo grado di giudizio, qui siamo invece tutti ai primi gradi di giudizio. Bene, la scelta del governo di difesa prevalentemente è di carattere procedurale, cioè che non c'è nessun interesse a impugnare una legge già applicata, non ancora applicata. Questa è la tesi di fondo, abbiamo detto, replicheremo su questo punto, quando abbiamo ottenuto l'annullamento dopo una legge che è stata applicata tre volte, abbiamo avuto che la legge è stata annullata, chi è stato eletto con la legge annullata sta lì, mi ha cambiato la legge elettorale e per di più cambiava la Costituzione. Adesso che l'hanno imparato, se dovessero dichiararle incostituzionali dopo un Parlamento eletto con l'Italicum, probabilmente costituzionalizzano la legge che è stata annullata, perché questo ormai è il loro modo. La sentenza della Corte Costituzionale sulle cinque ordinanze di rimessione dei tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova, dopo la discussione nella pubblica udienza del 24 prossimo, non costituisce un'invasione di campo della centralità del Parlamento bicamerale plebiscitata dal Parlamento italiano lo scorso 4 dicembre. Non è nemmeno l'esercizio di una supplenza della politica, ma l'esercizio del suo ruolo di garante della costituzionalità delle leggi, senza zone franche, come era il caso delle leggi elettorali fino alla storica sentenza numero 1 2014. Se le leggi elettorali sono leggi costituzionalmente necessarie, esse devono essere necessariamente costituzionali e verificate prima della loro concreta applicazione in un rinnovo del Parlamento. I guasti provocati al sistema politico e istituzionale del nostro Paese dall'incostituzionale legge numero 270 2005, anch'essa pensata come la legge 52 2015 in funzione di una revisione costituzionale bocciata dagli elettori, sono sotto gli occhi di tutti. Quella legge è stata applicata nel 2006, 2008 e 2013, prima di essere dichiarata incostituzionale, ma lasciando in carica i parlamentari, non per responsabilità della consulta, eletti con quella legge. Non si deve ripetere nemmeno una volta, il voto con una legge incostituzionale viola i principi della sovranità che appartiene al popolo nelle forme nei limiti della Costituzione. Quindi l'uguaglianza, la libertà e la personalità del voto non possono essere lesi da una legge ordinaria come quella elettorale. La legge numero 52 2015, applicabile solo alla Camera dei Deputati, anticipava una riforma che deformava la nostra democrazia rappresentativa con forma di governo parlamentare. Quella legge era funzionare a una subordinazione del Parlamento e della Presidenza della Repubblica a un Presidente del Consiglio che, grazie ad un abnorme premio di maggioranza, controllava persino il Parlamento in seduto comune, grazie a un Senato ridotto numericamente e senza legittimazione popolare. Per fortuna, grazie all'iniziativa del gruppo degli Avvocati Antitalicum, sorto nell'ambito su iniziativa del coordinamento per la democrazia costituzionale, la legge sarà sottoposta al confronto di costituzionalità a nemmeno due anni dalla sua entrata in vigore il 23 maggio 2015 e poco più di sei mesi dalla sua piena applicabilità fissata al 1 luglio 2016. Un notevole progresso rispetto agli otto anni della legge 270 2005 e al terzo grado di giudizio cinque anni dopo la prima impugnazione. Deve essere chiaro al Parlamento che i principi affermati appena tre anni fa con la sentenza numero 1 2014 non sono derogabili neppure a colpi di vota di fiducia. Purtroppo nessun tribunale che era questo il primo motivo ha mandato questo alla Corte. Che hanno come unico inquiedante precedente quello sulla legge Cerbo nel 1923. L'auspicio che i principi della sentenza numero 1 2014 siano ribaditi è quanto si chiede, anche come linea guida per gli eventuali interventi integrativi parlamentari. C'è da aggiungere, questo possiamo dire a voce, che non possiamo affidare questo compito al Parlamento perché questo totalmente, senza linee guide, perché questo Parlamento non ha la Costituzione nel suo DNA.